oggi sono stata particolarmente ispirata da voi youtuber e voglio aprire un canale youtube e ti chiedo un consiglio da dove comincio? inizio ti devi iscrivere perché quello è la parte ok fatto ok inizio ti devi divirtire e devi avere un tema perché comunque youtube è stato uno di contenuti devi cercare qualche contenuto o qualche idea che non sia stata già fatta o se è stata già fatta provare un modo a raccontarla in maniera diversa che sia il tuo punto di vista perché comunque ogni punto di vista è quello giusto beh vi stiamo ad un ottimo consiglio da cui partire come ci ha rosto già da fatta forno